Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Scusate! Oh, scusatemi! Cheese! Devo andare? Sparky! Oh, Sparky! Sai che io adoro le patatine! C'è il miglior droghetto che ci sia! Wow, il cutie mardiccio è così, così luccicoso! Il mio non ha mai luccicato in quel modo! Sparkey! Oh, ehi, Misty Twisty! Oh, i cesparchi sono così carini, non trovi? Già, e guarda il suo cutie mardiccio! È così brillante! Sai, credo che il mio non funzioni bene! Non ha mai luccicato in quel modo! Cosa? Sì che l'ha fatto, Misty! No, ma non fa niente! Probabilmente non funziona come quello degli altri perché a me è arrivato così tardi! Non è mai troppo tardi per trovare la magia nel tuo chiusi, Mark! Misty? Ora dobbiamo solamente capire che cosa lo fa luccicare! Ascoltami bene! Trovare il tuo luccichio è come trovare la tua poesia! La poesia? Izzy, non sono sicura di capire... Già, esattamente! Coraggio, Misty! Ora sei una di noi e i tuoi nuovi amici sono sempre disponibili a darti uno zoccolo! Dici davvero? Ma certo! Quello che ti serve è qualche lezione di luccichio! Dai, andiamo! Andiamo! Trovato! Sì! Sì! Ah, ok! Allora, ci vuole un sogno alla fragola! Oh, no, 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 no! Volevo dire un'onda da sogno! Oh, l'ordine è pronto! Ecco qui! Oh, scusa! Ah! Ah! Oh, no! Che cosa ti è preso, Misty? Sei solo un'illusa! Non puoi farcela! Ci sono due fantastici verdi da sogno pronti, Misty! Misty? Misty! Torna qui! Va tutto bene! Oh, anche con l'aiuto di tutti gli amici pony! Il mio cutie mark non funziona ancora! Chi stavo prendendo in giro? Non sarò mai una di loro! E ora sei in una foresta super spaventosa, tutta sola! Ottimo lavoro, Misty! Non ne fai mai una giusta! Ehi! Eccoti qua! Sunny! E tu cosa ci fai qui nella foresta? Ero preoccupata per te, perché so che oggi non è stato facile! Già, qualche volta ho la sensazione che questo non sia il mio posto! Ti capisco! Quando la magia è tornata e sono diventata un alicorno, mi sentivo, beh, un po' persa! E dato che io ero l'unico alicorno, pensavo che nessun pony mi avrebbe capito! Sarà stata molto dura! Ti devi essere sentita così sola, Sunny! È stato davvero così all'inizio! Poi ho realizzato che ero sola perché tenevo quelle preoccupazioni solo per me! Ma se le condivido con i pony che mi vogliono bene, loro mi staranno sempre vicino! Esattamente come tutti voi pony mi siete stati vicino oggi! Tutti i pony ce l'hanno messa tutta per far sì che il mio cutie mark luccicasse! Esatto! Perché è così che fanno i veri amici! E sai una cosa? Anche se tu non avessi il cutie mark, ti assicuro che il tuo posto sarebbe qui insieme a noi! Perché dobbiamo stare uniti! Davvero? Dici sul serio? Zoccolo sul cuore! Zoccolo sul cuore! Oh, Misty, guarda! Wow, come hai fatto? È stato il parkour, non è così? Beh, Itzy, che cos'è questo cappello? È il tuo tocco di laurea per il corso di luccicchio all'università, Shokina! Più, più! Congratulazioni, Itzy! Grazie a tutti!